Musica Parti con gli appuntamenti di notti d'estate L'alchimia tra musica e cinema al Biterbo Jazz Up Festival l'ospite d'onore è regista Pupia Vati a Santa Maria delle Fortezze il cineasta si è raccontato al suo pubblico le colonne sonore dei suoi film hanno fatto da filo conduttore all'incontro cinema e vita si fondono nelle opere del regista bolognese che ha regalato tanti lungometraggi memorabili alla cinematografia italiana spezzoni di film e tanti ricordi nella serata Viterbese